Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, insistono le correnti fresche sull'Italia centro-settentrionale e l'Europa centrale, questo nucleo fresco continuerà a dar luogo a temporali anche molto forti al nord nei prossimi giorni all'inizio di giugno, poi dopo il 5-6 del mese potrebbe arrivare l'aria più calda nord-africana soprattutto al sud. Per quanto riguarda questo venerdì, perturbazione che insiste sul nord-est con rischio di violenti temporali e ridosso dei monti, fenomeni sparsi su Toscana e Umbria, man mano che ci spostiamo verso il sud è tempo un po' più stabile e anche un po' più caldo. In Abruzzo ne verrà fuori una giornata stabile, un finale di maggio col sole soprattutto sulle coste, mentre nell'aria interna ne verrà qualche nube, ma senza conseguenze non mi aspetto lo sviluppo di acquazioni temporali. Le temperature aumentano leggermente di un paio di gradi, fino a 28 gradi possibili su Pescara, altrove tra 21-26 gradi, il mare sarà poco mosso. Con questo concluso ci rivediamo nel prossimo appuntamento, sempre qui su TV6. Grazie a tutti. Grazie a tutti.